Un affondo, quello di Luca Heller, a malalingua, che forse non ci si aspettava almeno in quei termini, un affondo che è stato definito dalla consigliera comunale Lucy Penek, poco elegante, pietra dello scandalo, il peace no war, urlato dal teatro antico, da una sedia a Mr. Trump, un gesto piaciuto a tanti ma definito fuori luogo da tanti altri. Heller ha bollato come inutile e dannoso l'intervento di Alcorinti, poco rispettoso di una città come Messina, Alcorinti avrebbe fatto bene, ha detto Heller, a proporre un documento politico all'aggiunta e al Consiglio, avrebbe avuto un altro senso, adesso invece mi fermano, ha detto e lo definiscono buffone, aggettivo forte, e specie se riferito ad un sindaco, al suo ex sindaco. Ma lo scontro ormai, quello tra Heller e Alcorinti e all'ultimo sangue, Heller boccia il sindaco e la sua aggiunta su quasi tutti i fronti, lo invita addirittura ad azzerare l'esecutivo, o comunque a far fare un passo indietro a chi sul bilancio e sulla Messina bene i servizi, avrebbe fatto a suo dire errori clamorosi, ignorando l'organo sovrano eletto dal popolo e il Consiglio, Quello di Alcorinti, secondo Heller, è anarco-individualismo, edonismo, non si vuole bene a Messina, non sono le sceneggiate che aiutano questa città ad avere dignità a livello nazionale ed internazionale, così l'ex assessore al bilancio. Opinioni soggettive sicuramente, come di certo c'è, che l'immagine di Messina è stata già offuscata da quella mafia, di cui quando è arrivato Heller sentiva forte l'odore nel palazzo, ed alcuni predecessori che sono riusciti a far debiti, e peggio a ignorarli, per oltre 500 milioni di euro.